Salerno, sabato scorso, prima convention provinciale di Forza Italia. Il senatore Enzo Fasano, presto anche nel Valo di Diano. Montesano sulla Marcellana, sabato l'incontro su furti in abitazione promosso da Risveglio Civico. Pertosa, abitazione come rivendita di droga, arrestata una coppia. Sala Consilina, 45 anni della SD a Catair di Antonio Casale, sabato scorso, grande festa con la consegna delle cittadinanze onorari a Lucio Maurino e al defunto maestro a Catair. Sant'Arsenio, divertimento, emozione e legalità allo spettacolo della compagnia, anzi teatro con Do Beppe Diana per non dimenticare, promosso dal Circolo Banca Montepruno. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la politica. Sabato scorso a Salerno, il coordinatore regionale di Forza Italia, Domenico Desiano, ha raggiunto la sede del partito per dare il via ad una serie di incontri sul territorio come richiesto dal leader Silvio Berlusconi. Un primo appuntamento che sarà seguito da altri nella provincia con gli esponenti di Forza Italia che raggiungeranno anche il ballo di Viano, come sottolineato dal coordinatore provinciale Enzo Fasano. Sabato mattina a Salerno, nuovo incontro del partito di Forza Italia che ha inaugurato una serie di appuntamenti sui territori, anticipando la presenza fisica del partito nella provincia di Salerno per conoscere le difficoltà e avere contatto diretto con le persone in vista delle prossime elezioni politiche di primavera. Come chiesto a Ischia e dal presidente Silvio Berlusconi, sono partiti da Salerno gli appuntamenti di incontrare, ascoltare e programmare, finalizzati proprio a creare un collegamento tra i cittadini e la politica per far sì che il programma da presentare sia confacente a quelle che sono le reali esigenze della comunità. È stata una giornata importante dove abbiamo ascoltato, così come c'eravamo prefissi, gli spunti che ci hanno fornito i sindaci della provincia di Salerno con tanti problemi e con tante esigenze in evase da parte degli ultimi governi nazionali. Ovviamente siamo alla vigilia di una campagna elettorale importante, siamo in una città che ha dato sempre risposte di grande livello al centro-destra. Io credo che possiamo dare una risposta significativa in termini di consenso anche da questa provincia. Grande attenta alla partecipazione alla prima convention provinciale di Forza Italia con il coordinatore provinciale, il senatore Enzo Fasano, e il vice coordinatore vicario Valentino Di Brizzi, che sono stati raggiunti dal coordinatore regionale Domenico Desiano per questo primo incontro, che ha anche confermato il sempre crescente consenso di Forza Italia e che il lavoro fatto sui territori dal coordinamento provinciale sta andando verso la giusta direzione. Tanti sindaci presenti all'appuntamento indetto dal senatore Fasano, che ha già anticipato la prossima presenza anche nel Vallo di Diano, insieme all'Onorevole Mara Carfagna. Nei prossimi giorni, insieme all'Onorevole Carfagna, alla classe dirigente locale, programmeremo altre iniziative. Alcune sono già in cantiere e ve le ho raccontate, altre le programmeremo sul territorio, a partire anche da una presenza sicuramente significativa nel Vallo di Diano. Non so di preciso quando, ma sicuramente ci sarà prima delle elezioni, tra le feste di Natalizio oppure immediatamente dopo, una presenza significativa di tutta la classe dirigente con l'Onorevole Carfagna. Il consigliere comunale di Sala Consilina, il dottor Giuseppe Colucci, interviene sulla questione dei provvedimenti di ingiunzione e pignoramenti presso terzi da parte della gamma tributi SRL nei confronti di diversi cittadini salesi per tributi comunali non pagati. Il decreto fiscale 2018, appena approvato alla Camera, sottolinea Colucci, prevede la rottamazione bis delle cartelle Equitalia, con la possibilità per i contribuenti di poter adire alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente di riscossione. La rottamazione delle cartelle 2018 è quindi una riedizione della prima rottamazione, ma con delle novità piuttosto rilevanti. Vi rientrano infatti le cartelle notificate da gennaio 2000 a settembre 2017. Ciò significa una seconda opportunità per i contribuenti che non hanno partecipato alla prima rottamazione. L'apposita domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 e l'importo condonato deve essere versato in massimo 5 rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il Comune, continua Colucci, può dare disposizione a gamma tributi di sospendere le azioni esecutive in attesa che il cittadino possa effettuare la domanda di rottamazione bis. Se necessario, conclude nel prossimo Consiglio Comunale, si può procedere alla modifica o integrazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali. Già approvato, conclude con delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 27 gennaio 2017. E andiamo avanti. Sabato scorso, presso Palazzo Cestaria Montesano sulla Marcellana, si è svolto l'incontro dal titolo Furti in Abitazione, Polizia di prossimità e risposta giudiziaria organizzata dal gruppo consigliare Risveglio Civico. Un fenomeno in forte ascesa, quello dei furti in abitazione, anche sul territorio di Montesano. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche il capitano della compagnia di sala consiglina, il capitano Davide Acquaviva. A margine dell'incontro, Pietro Cusati ha raccolto le parole di Renivaldo Lagreca, capogruppo consigliare di Risveglio Civico e dell'avvocato Pasquale Gentile, presidente della BCC di Buonabitacolo. Ascoltiamoli. Il fenomeno dei furti in abitazione crea una particolare angoscia, non soltanto a chi lo subisce, che si sente come violentato nella propria abitazione, ma anche per le persone vicine, per gli abitanti dello stesso borgo. Abbiamo pensato quindi che la soluzione non può essere quella di armatevi e difendetevi, ma di fare un convegno tecnico e informativo, facendo parlare gli operatori del settore. Quindi il presidente di una banca importante sul territorio, il capitano dei carabinieri, che è prima di tutto in prima fila per la repressione su questo specifico crimine, e poi un pubblico ministero, che è la terminazione finale dell'indagine. Voglio aggiungere, il furto in abitazione non è qualcosa che offende solo il patrimonio, chi subisce un furto in abitazione si sente violentato nella persona, nella sacerdà della sicurezza domestica. Per cui si hanno dopo il furto in abitazione particolari effetti psicologici negativi, depressione, paure, timori, che bisogna vincere un po' con tutti quanti insieme. Il capitano questa sera ha dato una serie di norme di comportamento, e noi gli divulgheremo queste norme di comportamento sui nostri siti, immediatamente dopo il convegno, sperando che questo possa essere utile, non a eliminare il furto, ma quando meno a saperlo gestire meglio da parte di chi lo sopisce. Bisogna fare rete con i cittadini, bisogna essere il primo presidio di tutela del patrimonio, solo con una collaborazione e con uno scambio di informazioni tra i vari cittadini, e anche tra le banche e le forze dell'ordine, è possibile arginare o prevenire un fenomeno criminale come quello dei furti. Come banca noi ultimamente abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa dell'ABI con le prefetture di Potenza e di Napoli per porre in essere degli strumenti idonei proprio per far sì che sia posto un argine a quello che è la possibilità di poter operare delle rapine o dei furti in banca. Questo per tre ordini di motivi. Uno, ovviamente, ma forse la meno importante, è una tutela di carattere economico, quella di salvaguardare ovviamente le risorse dei cittadini che sono depositati in banca. Due, soprattutto per tutelare l'ingolumità non solo dei dipendenti di banca, ma anche dei clienti che frequentano l'istituto di credito. Ecco per cui si cercano sempre nuovi strumenti di tutela e di sicurezza da condividere con le forze dell'ordine. Passiamo ora alla cronaca. Controlli antidroga da parte del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina portato all'arresto di due persone. Una coppia di coniugi che presso la loro abitazione aveva creato un centro di distribuzione di sostanza stupefacente. Coppia dedita allo spaccio di sostanza stupefacente apertosa individuata dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Notte tormentata quella appena trascorsa con i coniugi, un uomo di 40 anni ed una donna di 30, che sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare dai militari del capitano Davide Acquaviva e colti in fragranza di reato, sono stati arrestati per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso, pare che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina, guidati dal tenente Gaetano Ragano, hanno notato un insolito movimento nell'abitazione con un via vai continuo di giovani che entravano e uscivano dalla casa ubicata nella periferia di Pertosa. Con l'ausilio dei carabinieri delle unità cinofili di Sarno e del cane Attila, hanno quindi sottoposto a perquisizione l'abitazione della coppia, rinvenendo al suo interno una vera e propria centrale per il deposito e lo stoccaggio di sostanza stupefacente. Dall'esito della perquisizione sono infatti stati individuati circa 200 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio al dettaglio, un bilancino di precisione e ben 3.500 semi di canapa indiana, alcuni dei quali già suddivisi in involucri pronti per la vendita finalizzata ad allestire vere e proprie coltivazioni della cannabis per la produzione della sostanza psicotropa. I militari del nord di Sala Consilino, oltre al sequestro della droga e del materiale rinvenuto, hanno arrestato la coppia. L'autorità giudiziaria di Lago Negro ne ha disposto il regime degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. Ancora cronaca, nel fine settimana una donna residente a Sapri è stata arrestata perché evasa dagli arresti domiciliari a cui era sottoposta dal giugno scorso per il reato di maltrattamenti. Trovata dai militari della stazione di Sapri, si trova ora nel carcere di Potenza. E sempre nel corso del passato fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sapri hanno denunciato due stranieri residenti a Camerota fermati alla guida in stato di ebbrezza e segnalato alla prefettura cinque giovani per uso di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. Sabato scorso grande festa al Palapozzillo di Sala Consilina per festeggiare i 45 anni di attività della SD Akatair che conta un numero sempre crescente di iscritti. Un'attività la cui crescita evidenzia la passione del Vallo di Diano per il karate recentemente riconosciuto come disciplina olimpionica. È stata una grande festa di sport ma anche di orgoglio per Sala Consilina e per il Vallo di Diano. Sabato sera Palapozzillo gremito per i 45 anni di attività della SD Akatair di Sala Consilina che da anni diffonde gli insegnamenti e la cultura del karate nel Vallo di Diano contando anche un altissimo numero di iscritti. Sabato scorso Antonio Casale ha festeggiato i 45 anni dall'apertura della palestra e i 55 anni di conoscenza del maestro Akatair a cui è dedicata l'associazione e che nella stessa giornata ha accolto parte delle ceneri del maestro morto lo scorso anno che ha chiesto espressamente alla sua famiglia che venissero custodite dall'amico fedele Antonio Casale a Sala Consilina. Il forte legame con il maestro ha consentito Sala Consilina di essere città particolarmente amata per la sua passione per il karate anche dal maestro Lucio Maurino campione mondiale allenatore della Nazionale Italiana di Karate chiamata nel 2020 a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo a seguito del riconoscimento del karate come disciplina olimpionico. In occasione delle celebrazioni e dell'importante anniversario l'amministrazione comunale ha consegnato il riconoscimento di cittadino onorario al maestro Lucio Maurino e al compianto maestro Akatair con il figlio e la moglie che hanno ricevuto l'attestato e la simbolica chiave della città come da delibera del 2014 dell'allora amministrazione Ferrari. Tanta la partecipazione per lo spettacolo preparato dai figli del maestro Antonio Casale, Girolamo e Carmelina che proseguono la tradizione di famiglia continuando nella gestione della palestra Akatair e continuando a portarla ad altissimi livelli seguendo costantemente corsi di aggiornamento oltre a mantenere inalterato il nobile spirito con cui si deve praticare il karate di umiltà e rispetto insegnamenti ricevuti dal padre Antonio che a sua volta li aveva appresi dal maestro Akatair nei dieci anni di collaborazione. Spalti gremiti per la serata di sport e di ricordo con gli atleti dell'ASD Akatair che si sono esibiti mostrando i diversi percorsi agonistici che seguono nelle diverse fasce d'età. Presenti all'evento anche gli atleti nazionali Carolina Amato e Daniele Petrilli già campioni nella disciplina a livello nazionale che hanno mostrato la loro grande abilità nello sport e come l'educazione e il rispetto sono alla base dello stesso oggi disciplina olimpionica strappando grandi applausi al foltissimo pubblico che ha gremito il palapozillo sabato scorso a Sala Consilina. E ascoltiamo ora le interviste realizzate sabato sera. Noi pratichiamo un'arte marziale che a sentire la parola sembra come se fosse violenza e invece non è violenza. Noi insegniamo a non essere violente e quello è molto difficile ma moltissimo. I bambini si formano diventano autonomi socievoli imparano, ripeto, le regole a dire buongiorno, buonasera, buon appetito quelle cose che mancano oggi stanno proprio stanno proprio dimenticando e questa è la e questa è la nostra disciplina. 45 anni di una di un'attività dedicata ad Akatair un nome che insomma lei si emozionava si sentiva l'emozione non è facile 45 anni abbiamo fatti a Sala poi sono stato altri 10 anni più con lui dunque è più di mezzo secolo che conosco che conosce una persona così brava così così umana è difficile oggi è quasi sembra impossibile trovarle invece ci sono le persone brave ancora in realtà io ho iniziato già all'età di 3 anni e ho proseguito il mio percorso di vita il mio percorso di studi su questa linea tant'è che ho dedicato e dedico parte del mio tempo a questo sport un po' per passione un po' per lavoro un po' perché realmente è un qualcosa che mio padre mi ha trasmesso e lo facciamo sia io che mio fratello diciamo cerchiamo di farlo nel migliore dei modi i bambini ne sono una dimostrazione i nostri genitori i genitori dei bambini che ci portano i loro bambini ogni sera sono sempre più contenti e fiduciosi in quello che noi facciamo e il rispetto che noi nutriamo per i bambini e per i genitori è immenso diceva tua sorella insomma di questa passione che vi è stata trasferita da vostro padre vi ha preso da subito ma immagino che vi ha trasmesso anche dei grandi e importanti valori vero? sicuramente dei valori molto molto diciamo validi il valore più diciamo quello più importante secondo il mio punto di vista è il rispetto il rispetto per gli altri che in questo mondo se ci fosse un po' più di rispetto sarebbe una bella cosa quello che cerchiamo di insegnare ai bambini in valessa già dalla più tenera età e già dai 4 anni insegniamo questo ed è una cosa molto molto bella sono fortemente privilegiato di questo premio e quindi mi sento onorato di tutto questo oltretutto mi sono state consegnate anche a livello come dire formale le chiavi della città e questo sancisce una collaborazione che da diversi anni è nata con il maestro Antonio Casale e i suoi figli Carminile e Girolamo con i quali appunto abbiamo condiviso e continuiamo a condividere esperienze molto belle nell'ambito delle arti marziali ma anche dello sport in genere quindi io ho conosciuto anche il maestro Agatahir di cui oggi celebriamo anche diciamo la sua memoria e quindi posso dire semplicemente che sono veramente orgoglioso di essere parte ormai di questa famiglia di aver come dire ricevuto ad onore questa cittadinanza per cui mi sento anche un po' salese oggi io fin da subito sono entrata nella nazionale giovanile e ho vinto un titolo europeo terza al mondiale seconda al mondiale e la cosa che mi ha avvicinato a questo sport sono stati i miei genitori entrambi allenatori di karate che mi hanno trasmesso questa grande passione e quindi ho continuato questo percorso ho iniziato per diciamo per merito di un fratello in quanto lui faceva karate e io sin da piccolo ho voluto iniziare infatti ho iniziato a 4 anni poi con l'andare del tempo mi sono sempre più appassionato e avvicinato a questo sport i titoli che ho vinto diciamo che ho fatto un bronzo in argento ai campionati europei e ultimamente ho fatto un bronzo individuale alla coppa del mondo giovanile e diciamo che il karate ormai è diventato un mio stile di vita in quanto pratico ogni giorno questo sport pubblico entusiasta quello del teatro amabile di Sant'Arsenio che ieri sera ha assistito al musical portato in scena dalla compagnia Anzi Teatro di Casal di Principe dedicato alla figura del prete ucciso dalla camorra Don Peppe Diana l'evento è stato fortemente voluto dal circolo Banca Montepruno preseduto da Aldo Rescinito e dalla Banca Montepruno del direttore Michele Albanese per i messaggi che vengono lanciati quali rispetto e legalità ieri sera il teatro amabile di Sant'Arsenio ha ospitato un'importante lezione di legalità e rispetto con il musical Don Peppe Diana per non dimenticare offerto dal circolo Banca Montepruno preseduto da Aldo Rescinito e dalla Banca Montepruno del direttore generale Michele Albanese e portato in scena dalla compagnia Anzi Teatro che dal dicembre 2014 ha già raggiunto le 136 repliche della storia di Don Peppe Diana il parroco di Casal di Principe ucciso il 19 marzo del 1994 dalla Camorra il dolore per la sua tragica morte ha segnato profondamente la comunità che da allora ha deciso di rialzare la testa togliere il velo di omertà e silenzio e portare la città a rinascere allontanandola dalla malavita Casal di Principe oggi finalmente non è più ricordata come terra di Camorra ma come terra natia di Don Peppe Diana esempio di chi non accetta passivamente e silente la presenza della malavita ma che la osteggia e la combatte l'associazione Anzi Teatro in primis l'autore del musical Giuseppe Capoluogo e il regista Francesco Apicella attraverso lo spettacolo Don Peppe Diana per non dimenticare cercano di far conoscere un'altra Casal di Principe e un'altra Napoli fatta in gran parte da gente umana rispettosa delle regole e delle persone Il progetto Don Peppe Diana nasce proprio con l'intento di raccontare Don Peppe a 360 gradi in effetti sia nel lato umano ovviamente perché Don Peppe era una persona molto sensibile ma anche con la testa un po' da pazzerello proprio come l'avete visto in scena quindi questi momenti tragici accompagnati da eventi molto comici sono proprio la tecnica giusta per far sì che lo spettatore segue più appassionatamente e non stanchi durante lo spettacolo però non è stato difficile assolutamente anzi è stato abbastanza impegnativo ma soddisfacente A noi piace a noi piace fare spettacolo fare teatro ma in modo particolare mi piace portare tematiche piuttosto forti in teatro da trasmettere sentimenti forti ai giovani noi lavoriamo solo ed esclusivamente per loro e quindi qua Don Peppe doveva essere conosciuto doveva essere portato alla conoscenza dei giovani fare quello della mamma per me è stato fondamentale anche perché la signora Iolanda che io ho conosciuto è ancora viva è vivente e combattiva più che mai lei dalla morte del figlio aveva proprio questa speranza quello che ho detto io alla fine che il paese fosse ricordato non più come la terra dei clan e se lei verrà qualche giorno a trovarci a Casal di Principe potrà vedere che proprio all'ingresso di Casal di Principe c'è questa targa bellissima dove dice città natale di Don Peppe Diana quindi lei dal dolore ne ha fatto poi un punto di forza il circolo Banca Monte Bruno e l'istituto di credito diretto da Michele Albanese hanno così voluto regalare una serata di divertimento e socializzazione ma lanciando anche messaggi chiari di legalità e rispetto delle regole delle persone rendendo la serata anche molto educativa è un simbolo d'amore quello della vita di Don Peppe Diana che noi abbiamo voluto rappresentare di nuovo qui a Sant'Arsenio perché questo spettacolo è itinerante e si fa da ormai da oltre 15 anni in tutto il territorio campano e credo anche al di là è itinerante per portare proprio questo forte grande messaggio verso la gente e soprattutto verso i giovani verso le giovani generazioni per dire che la legalità deve sempre vincere il tema della legalità è un tema fondamentale ma soprattutto è importante portare anche ai giovani alcuni esempi positivi l'esempio di Don Peppe Diana è sicuramente un ottimo esempio un esempio positivo da tramandare purtroppo su Peppe Diana ha vinto la camorra ma sicuramente il messaggio che Peppe Diana ha lasciato che ha lasciato i giovani togliendoli dalla strada è sicuramente qualcosa che resta a tutti quanti resta anche a tutti quanti noi un appuntamento che si è anche concluso con una forte emozione nel ricordo di Don Peppe Diana e del dolore di una grande comunità che da quel momento ha realzato la testa per tornare a sorridere e a vivere le interviste integrali realizzate ieri sera presso il Teatro Amabile in occasione dello spettacolo Don Peppe Diana per non dimenticare andranno in onda questa sera alle ore 20 e 30 al termine del nostro Tg e andiamo avanti questa mattina la statua di Santa Barbara e la reliquia custodita nella chiesa della Santissima Trinità di Sala Consilina sono state accompagnate dai Vigili del Fuoco e dal parroco Don Gabriele Petrocelli a Salerno Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco è stata portata dai mezzi dei caschi rossi con il capo di staccamento di Sala Consilina Luigi Morello e il parroco Don Gabriele Petrocelli presso la chiesa della Santissima Annunziata a Salerno dove è stata celebrata la Santa Messa per le Interforze alla presenza dei militari della Marina autorità civili militari e religiose oltre che dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale in accordo con Don Claudio Mancusi e il cappellano militare capo Interforze di Salerno al termine della celebrazione religiosa la Statua della Santa e la Reliquia sono nuovamente partite in direzione di Sala Consilina dove questa sera alle ore 19 presso la chiesa della Santissima Trinità si svolgeranno le consuete celebrazioni con la Santa Messa ufficiata da Don Claudio Mancusi e a seguire la processione scusate su mezzo dei Vigili del Fuoco che percorrerà le arterie principali di località Trinità al rientro fuochi d'artificio offerti dalla ditta Pepe con questa notizia termina la prima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale andiamo a Teggiano da dicembre ad aprile prossimo 600 alunni delle scuole locali saranno coinvolti nel progetto Cittadinanza e Costituzione la scuola in comune previsti seminari lezioni e laboratori per far comprendere il senso dell'argomento Cittadinanza e Costituzione la scuola in comune è il progetto ideato dal comune di Teggiano che gode del patrocinio dell'Università degli Studi di Salerno della Banca Montepruno dell'ente Parco Nazionale Cilento Vallo di Viano e Alburni e del Rotaract Vallo di Viano che coinvolge oltre 600 alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale della scuola dell'infanzia della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado istituto comprensivo Giovanni Pascoli istituto maestri e filippine gli studenti approfondiranno la conoscenza della Costituzione attraverso lezioni e conferenze tematiche durante l'anno scolastico 2017-18 i rappresentanti dell'arma dei carabinieri del mondo scolastico universitario giornalistico bancario politico e sociale racconteranno alle giovani generazioni tegianesi in un percorso divulgativo a tappe gli aspetti fondamentali della carta costituzionale la presentazione dell'iniziativa si è tenuta a tegiano sabato scorso e hanno preso parte tra gli altri Aurelio Tommasetti rettore dell'università di Salerno Salvatore Gallo dirigente scolastico Suon Maria Pia Mezzabarba maestre piefilippine Michele Albanese direttore generale Banca Montepruno presenti anche il sindaco Michele Di Candia e l'assessore alla pubblica istruzione Maddalena Chirico Questi progetti devono essere portati sui tavoli ma soprattutto di fare un ragionamento con quelle che sono le scuole ritengo che la società ne ha la necessità perché è bello conoscere i diritti ma i doveri non si conoscono ora qual è il dovere dell'istituzione è quello di far conoscere bene la costituzione nella sua interezza ma far capire anche ai ragazzi che il mondo non gira come loro pensano ma il mondo va rispettato e ritengo che insomma basta ascoltare il televisore oggi quante notizie che arrivano fuori e questo ti dimostra che insomma poi alla fine si sono persi quelli che sono i valori e ritengo che dobbiamo partire per acquistarli dal basso andando verso in alto e allora noi come amministrazione comunale abbiamo scelto questo tipo di progetto e ne abbiamo approfittato nel senso che proprio per i 70 anni della costituzione per portare in un grosso in un grosso convegno e realmente di parlare di argomenti che vanno in una certa direttiva noi stamattina presenteremo questo progetto che l'amministrazione comunale ha voluto sponsorizzare attuale appunto in questo anniversario importantissimo per il nostro paese cioè i 70 anni dell'entrata in vigore della costituzione italiana questo perché per creare quel ponte fra generazioni e far capire ai nostri ragazzi quelli che sono stati i propri principi i valori su cui si è creato lo stato italiano e quindi far riscoprire questi principi questi valori che hanno fatto grande questo paese attraverso che cosa una convegnistica particolare un percorso multidisciplinare abbiamo creato tre progetti su misura in base ai ragazzi e ai destinatari delle classi e dei ragazzi cioè creati su misura in base a quelle che sono un poco l'organizzazione delle nostre scuole abbiamo immaginato parlamento in comune per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado abbiamo immaginato costituzione in classe per quanto riguarda invece la scuola primaria è una giornata da primo cittadino per la scuola dell'infanzia oggi dobbiamo trasmettere quelli che sono i principi delle istituzioni i principi della politica perché la politica non è qualcosa di negativo la politica quella fatta con la P maiuscola la politica che si occupa dei problemi della gente la politica che si occupa dei problemi del territorio la politica che fa cultura è certamente una parte nobile nel nostro paese e guai a dare continuamente un'immagine negativa di tutto ciò che è politica di tutto ciò che è le istituzioni questo significa creare un grave problema sociale ma soprattutto significa non dare punti di riferimento ai nostri giovani io penso che invece i giovani hanno bisogno di punti di riferimento e quale migliore occasione delle istituzioni e della nostra Costituzione sta andando avanti il progetto di live media dell'Università di Salerno grazie alla collaborazione della Banca a Montepruno mercoledì ospite a Fisciano Federico Buffa prosegue il progetto di live media dedicato agli studenti dell'Università degli Studi di Salerno portato avanti in collaborazione con la Banca a Montepruno è un grande onore ha dichiarato il direttore generale Michele Albanese collaborare attivamente ancora una volta con l'Università degli Studi di Salerno che per noi rappresenta un ottimo bacino di competenze e risorse cui poter attingere il teatro di Ateneo a Fisciano mercoledì 6 dicembre ospiterà il noto volto di Sky Federico Buffa l'appuntamento si aprirà alle ore 18 con i saluti del magnifico rettore Aurelio Tommasetti l'ospite d'eccessione proseguirà poi con Federico Buffa raccontiamoci una partnership quella tra l'Ateneo Salernitano e l'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese che ha visto diversi appuntamenti intermedi per la realizzazione di un piano finalizzato ad avvicinare i giovani dell'Università quello che è Di Live Media un contenitore che racchiude elementi legati al mondo della cultura e dello spettacolo attraverso una serie di incontri con personaggi di spicco con Di Live Media racconta Michele Albanese abbiamo avviato un percorso di grande vicinanza per dare un contributo concreto ai giovani e accompagnarli nel mondo del lavoro l'auspicio è che sia solo l'avvio di un cammino comune che possa dare beneficio a tanti studenti che iniziano il loro percorso professionale la presenza di Federico Buffa dà ulteriore lustro ad un progetto con enormi potenzialità che mercoledì verranno ancora una volta confermate grazie anche al supporto della nostra banca e al direttore artistico di Di Live Media Roberto Vargiù che ringrazio per averci coinvolto al termine dell'evento mercoledì verranno poi annunciati i nomi dei tre studenti che da gennaio inizieranno un percorso presso la banca a Montepruno saranno il professor Francesco Colace delegato al placement Unisa e il direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese a presentare l'iniziativa A Padula presso il circolo sociale Carlo Alberto sabato sera è stato presentato il libro Il Cilento in Australia scritto da Gina Chiacchiaro e Bartolo Scandizzo che vuole raccontare l'esperienza delle comunità che vivono laggiù e che con coraggio hanno intrapreso una nuova vita Il Cilento in Australia è il libro di Gina Chiacchiaro e Bartolo Scandizzo presentato sabato sera nella sede sociale del circolo Carlo Alberto 1886 di Padula L'evento è stato aperto dai saluti del presidente Felice Etierno e del professor Gaetano Ricco che ha letto e commentato a più riprese alcune poesie riportate nel testo Noi riprendiamo le nostre attività culturali diciamo proprio con la presentazione di questo testo Il Cilento in Australia come hai già precisato di Gina Chiacchiaro e Bartolo Scandizzo che come lascia intuire già il titolo insomma parla di un fenomeno che noi conosciamo bene insomma l'immigrazione in questo caso è l'immigrazione verso un continente che da quando è iniziato forse era un tantino meno conosciuto l'Australia rispetto ai luoghi diciamo di più più lunga e più conosciuta emigrazione che per noi del Vallo di Padula insomma il Venezuela l'Argentina i paesi del Sud America e del Nord America insomma dove c'è stato più movimento ecco in questo senso qua ed è un testo che vale la pena di leggere insomma perché affascina perché è pieno di sentimenti insomma di nostalgia è un libro documentato insomma proprio da tante interviste fatte dai due autori l'effetto di incontrare persone speciali ognuno di loro ha lasciato una traccia non tanto perché l'abbiamo scritta ma perché collegare quei luoghi e i paesi da dove sono partiti a quelle persone è effettivamente una cosa che dà una bella sensazione diciamo che loro possiamo dire che sono il meglio di noi che è andata via e che hanno avuto coraggio e che hanno saputo poi crescere i figli e farli diventare andare oltre quello che avrebbe la vita che avrebbero potuto immaginare in questa nostra terra Gina Chiacchiaro è intervenuta sulla straordinaria esperienza di questo viaggio durato due mesi quando cioè entrando in contatto con diverse persone trapiantate laggiù si è instaurato un reciproco scambio di battute che ha consentito un reale arricchimento personale è stata raccontata così l'integrazione e il volersi mettere in gioco anche attraverso la cucina trapiantata che ha il sapore della terra natia ho trovato la gioia e i sorrisi di chi ce l'ha fatta con coraggio a superare le difficoltà e a mettere radici profonde in una terra seppur così lontana da casa con orgoglio e nessun risentimento ha detto nasce dal desiderio prima di tutto molto personale di fare una vacanza diversa e non più una vacanza soltanto all'insegna del conoscere il territorio conoscere i posti da turisti ma una vacanza dove si andava a verificare a toccare con mano l'esperienza di queste persone che dal Cilento soprattutto dal Cilento sono le persone che noi abbiamo incontrato in Australia si sono trasferite in Australia alla ricerca di un mondo migliore infine è intervenuto Bartolo Scandizzo autore insieme a Gina sua moglie di un testo la cui lettura è scorrevole ma che induce alla riflessione ed eccomi di nuovo in Australia per la terza volta per raccontare un'altra esperienza ancora unica nel suo genere scrivono perché questa volta vogliamo raccontare la storia degli altri di coloro che sono venuti qui dai migranti e ci sono rimasti raggiungendo alcuni traguardi importanti è un libro che sicuramente ha l'aspetto di un diario di viaggio perché racconta le varie interviste diciamo fatte ai tanti nostri concittadini che in anni difficili emigrarono verso questo continente ma anche un canto appunto come diceva lei adesso a quella che sono le nostre radici a quella che è la nostra cultura occidentale a quelle che sono anche i fondamenti stessi va bene della nostra vita e quindi è un libro assolutamente come qualche volta già detto come parafrasando un pochino il sottotitolo di un altro grande libro del Così parlò Zaratustra di Federico Nicci un libro per tutti e per nessuno si sono tenute sabato scorso a Sant'Arsenio le audizioni per il meeting internazionale dello spettacolo di Sorrento ad organizzarle l'associazione I Due Volti della Luna e il Village Music Academy sabato sera a Sant'Arsenio si sono tenute le audizioni per prendere parte a gennaio al meeting dello spettacolo di Sorrento a volerle l'associazione I Due Volti della Luna molti i giovani e giovanissimi che hanno raggiunto il Vallo di Diano per partecipare ad una serata tutta dedicata a loro mostrare il loro talento assistere a brevi lezioni e ricevere consigli su come muovere i primi passi a guardarli esibirsi e valutarli gli esperti rappresentanti di Village Music Academy che da anni svolge attività di scouting formazione e promozione di artisti emergenti il bilancio è molto positivo anche perché è una terra veramente ricca di talenti e il nostro obiettivo è proprio quello di cercare talenti e di poi farli visionare agli addetti lavori cercando di promozionarli e di inserirli nei vari settori di intervento e noi siamo qui per presentare il meeting di Sorrento che si farà dal 4 al 7 gennaio appunto a Sorrento ed è un meeting internazionale dello spettacolo che vedrà la presenza di giornalisti autori televisivi vocal coach produttori discografici di fama nazionale che in un certo qual modo terranno delle lezioni con tutti gli artisti partecipanti e cercheranno quindi di indirizzarli nei giusti canali non solo la voce ma soprattutto l'interpretazione scenica emotiva deve emozionare e noi con il maestro Auletta qui presente stiamo cercando di inculcare questa mentalità nell'artista non solo bella vocalità ci vuole la bella vocalità però deve essere diciamo associata a una buona interpretazione scenica sabato sera era presente anche la banca a Montepruno rappresentata dal consigliere d'amministrazione Pierangelo Desiervi che ha fatto l'imbocca al lupo ai ragazzi da parte dell'istituto di credito che crede e continuamente investe sui talenti del territorio a collaborare nella realizzazione dell'evento il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio che ha messo a disposizione degli organizzatori i propri locali noi abbiamo a cure due cose come molti sapete i giovani e il territorio i giovani perché comunque purtroppo viviamo in un territorio che è in declino sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista demografico quindi puntiamo comunque a far restare qui nel territorio giovani come me d'altronde quindi quando gli organizzatori di tutte le associazioni che ci chiedono una mano siamo ben orgogliosi di dargli le nostre strutture a disposizione un ruolo significativo nell'individuare e sostenere i giovani talenti è rappresentato dalle associazioni locali come due volti della luna di Gerardo Costa che fanno da filtro tra le piccole realtà e l'ambito mondo dello spettacolo il ruolo è fondamentale perché grazie poi all'intervento di queste associazioni questi ragazzi riescono a capire e anche a sapere che ci sono realtà come le nostre perché in una città come quella di Sant'Arsenio per quanto bella per quanto insomma possa regare anche delle bellezze turistiche interessanti però manca ovviamente un ente di appoggio di informazione e anche che sia di crescita per i ragazzi quindi è un ruolo fondamentale quella dell'associazione due volti della luna perché grazie a questa associazione i ragazzi possono essere inseriti e provare ad essere inseriti in dei contesti come quello dello spettacolo come può essere il musical come può essere la televisione quindi il primo applauso va a loro i ragazzi hanno risposto bene ma a questo lo devo anche alla mia collaboratrice che compagna Vittoria Benvenga che sono più di una settimana che sta ingollata al telefono quindi e si vede quanto c'è poi il lavoro dietro quindi le cose riescono bene e devo dire la verità è stata una giornata veramente intensa con questi ragazzi bravissimi tutti bravi poco fa abbiamo assistito a un batterista che è tutto pepe quindi speriamo che a Sorrendo sarà davvero un bel meeting lo spero davvero perché i ragazzi sono in gamba termina qui il nostro telegiornale vi ringrazio di averci seguiti vi auguro un buon proseguimento di giornata a